L'attesa è finita. Da domani le tre cugine abruzzesi ed il quarto incomodo Aprilia daranno la caccia all'unico posto ancora disponibile per salire in prima divisione. Si riparte da zero o quasi. Convinzione di farcela, spirito di sacrificio, condizione atletica ed un po' di buona sorte saranno fattori essenziali per gli spareggi post campionato. Ricordando che in semifinale finale l'andata si gioca sempre in casa della peggio classificata e che passa il turno la squadra che nel doppio confronto segna più gol. In caso di parità avanza la meglio classificata. Grandissima attesa per il derby del fattori tra l'Aquila e Chieti. In campionato hanno vinto le squadre in trasferta. L'Aquila 1-0 all'Angelini e il Chieti 2-1 al fattori. È vero che tra le tifoserie c'è un buon rapporto ma la gara dell'Aquila dello scorso 7 aprile ha avuto un epilogo turbolento in campo e negli spoglietoi e alcune ruggini potrebbero riproporsi in un contesto dove la posta in palio è molto alta. L'Aquila e Chieti hanno chiuso la stagione regolare con una flessione più evidente per il rosso-blu che hanno dovuto attendere l'ultima giornata. Per qualificarsi pur avendo una rossa di categoria superiore, meno per il Chieti che anzi ha stabilito il record di 13 risultati utili consecutivi. Gara un po' più speciale per Lorenzo Del Pinto, anima della mediana teatina ma Aquilano Doc, e Giovanni Pagliari, allenatore dell'Aquila ma bomber del Chieti di Ezio Volpi all'inizio degli anni 90. Salterà tutti i play-off per un guaio muscolare il difensore Aquilano Mucciante, ex capitano Nero Verde. Sul fronte formazione dilemma modulo per Pagliari che potrebbe riproporre il 4-3-3 con Giannini, Carcione, Menicozzo in mediana, Ciotola, Infantino in prota davanti, in caso di 4-4-2, D'Amico al posto di Giannini. Nel Chieti de Patria è a tutte a disposizione e si affiderà la soluzione più remunerativa, il 4-2-3-1 con Mungo dietro De Sousa, Alessandro a sinistra, Vitone Del Pinto in mezzo al campo. Non convocato Feola. Clima di grande attesa anche a Teramo, dove i biancorossi sono pronti a competere per la quarta promozione dell'era Campitelli, anche se l'Aprilia di Favoretto è l'unico 11 ad aver strappato 6 punti su 6 al Diavolo. Tutto a disposizione per mister Cappellacci con i rientri di Giazzetta e Scipioni. Il tecnico di Sorto Reto confermerà il 4-4-2 e sarà d'assalto. Foglia e Ambrosini sulle fasce, Bucchi e Olcese davanti, Novinic e Scipioni preferiti a Coletti e De Fabritis. Modulo speculare per l'Aprilia, terza in classifica e prima testa di serie di questi play-off. Sembroni e Mariotti guideranno la difesa, Croce e Amadieo il centrocampo, davanti Ferreri e Calderini, favoriti su Gomez, gli arbitri L'Aquila Chieti, Minelli di Varese, Teramo Aprilia, Pelagatti di Arezzo.